E ragazzi, ciao a tutti, come state? Io sono Axel, o meglio, potenta pala ragazzi Ah, muoio Potenta pala ragazzi, qua ho Axel oggi, oh my god, oggi sono da solo E come potete bene vedere, oggi sono qui a presentare un video diversissimo dal solito E ragazzi, questo è forse per me, non dico uno dei video più importanti, ma se qua dentro c'è ciò che penso Questo sarà un video abbastanza importante per me Perché infatti, come gli iscritti più antichi, se possiamo sottolinearli, sanno, il mio obiettivo su YouTube era uno Raggiungere 100.000 iscritti per ricevere quella che chiamano la targa, la targhetta, il cosiddetto reward E ragazzi, dentro questa scatola ci dovrebbe essere qualcosa di simile, ma perché dico ci dovrebbe Perché mia mamma ha fatto negli stessi giorni all'incirca un'altra spedizione, quindi magari troviamo qualcosa che appunto serve a mia mamma Quindi questo backcoming sarà totalmente inutile Comunque mando le chance, non so se l'avete notato, ma non credo sia questo Quindi sto resistendo con la rubro Andiamo a prendere il coltello e andiamo a inflizzere danno su questa scatola Così alla... Quindi, vai, la scatola si sta prendendo Dio santo non riesco a aprirla Ragazzi Mi sa che non è proprio il mio Ehm Mi sa che è di mia madre Non è vero ragazzi, stavo scontando Mi è vero che non si è preso malissimo, mi sa che fosse una cosa mia mamma Ragazzi Qui dentro C'è 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 ciò Che si interessa Adesso però l'ho già aperta malissimo Mi dispiace un sacco Oddio Aspettate Prima però ragazzi Momento magia Guardate il vostro mago Axel Cosa riuscire a fare Vedete questo 7 Ma perché se tipo io ci passo sopra la mano Si trasforma in un jack di quadri Cioè mi sembra un po' un fenomeno Comunque ragazzi dicevo Leggiamo insieme questa lettera E ragazzi qua stavo recitando in maniera scena La lettera che appunto ho ricevuto Però dato che appunto la stavo dicendo in inglese Colgo l'occasione per dirvi che Sono riuscito a passare il first Vi avevo chiesto di pregare incredibilmente Il dio faun e il dio faun ci ha ascoltato ragazzi Quindi cosa veramente fantastica Comunque in poche parole la lettera diceva che Abbiamo raggiunto tutti insieme Un grande traguardo Noi pensiamo all'Oden se loro pensano In questo caso il team youtube A farci, a darci un premio Che è appunto quello che state vedendo Ragazzi mi sto mettendo a piangere Dopo aver letto questa lettera Che ci ha un po' commosso Direi da andare a aprire Ragazzi voi non avete idea di quanto io tenga questo premio Cioè veramente è il mio sogno E il mio sogno si sta realizzando ragazzi Oh mio dio Guardate un po' che bestia Ci smeghiamo addirittura Congratulation Oaxel For surpassing 100.000 subscribers Ragazzi è a dir poco epica E so già dove la metterò Perché non so se state vedendo Ma ho ordinato nuovi poster E la tanghetta Credo di metterla lì E poi quando andrò a fare i video Ti metterò tipo Non so se state vedendo qua la telecamera E poi mi vedrete lì Una cosa abbastanza tattica Comunque guardate un po' che spettacolo ragazzi È a dir poco epica Spero che appunto voi la stiate vedendo Ma credo proprio di sì Ed eccola qui Ragazzi il mio sogno si è realizzato Non so più neanche cosa dirvi Ma scuola è stato un video abbastanza stupido Però io era una cosa Quindi ci tenevo un macello Ma se voi lo sapete È perché siete iscritti da un macello E se siete iscritti da un macello Vi devo ringraziare Vabbè anzi che siete iscritti da poco Ma vi devo ringraziare perché a questo traguardo L'ho raggiunto grazie a voi Quindi ragazzi Siete fantastici Mentre parlavo ci ho sputato tipo sopra Sei bambini Infatti devo già andarla a pulire Ottimo Comunque ragazzi Detto questo Questo velocissimo unboxing è finito Ma veramente Io ci tenevo un sacco questo video Ecco non venitemi a dire È corto bla 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 Perché? Frega cazzi Detto questo Spero che anche questo Questo mini unboxing vi sia piaciuto E vi dico Ciao a tutti Grazie mille Siete fantastici Detto questo io vi saluto Dico potente A passi Nel prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti